Ipon è stato uno dei più grandi insegnanti di arti marziali come il Kung Fu e il Wing Chun. Però la cosa che lui ha fatto molto importante è stato poter insegnare le arti marziali all'aria aperta a tutti. Ed è stato insegnante di Bruce Lee e di altri attori di arti marziali. Lui è stato una guida per le generazioni che hanno potuto fare questi arti marziali.